Presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli, qua nel Palazzo Montecuculi, la vostra sede, aprite lo spazio F. Di cosa si tratta? Si tratta di un luogo che vuole avvicinare la Fondazione alla propria comunità di riferimento attraverso il rafforzamento del dialogo, del confronto, ma anche attraverso la veicolazione dei contenuti che i tanti soggetti beneficiari delle nostre erogazioni sviluppano per il bene di tutti. In particolare cito i soggetti partecipati dalla Fondazione che operano nell'ambito culturale, che potranno trovare qui una vetrina a disposizione dei cittadini per promuovere le iniziative, i palinsesti, le programmazioni. Il pubblico potrà accedere tutti i giorni liberamente? Sì, il pubblico potrà accedere tutti i giorni liberamente, sia in modalità fisica, sia in modalità digitale, perché contestualmente rilasciamo un'app che permetterà ai cittadini sia di prenotarsi per avere accesso alle sale. Ad esempio sarà possibile in questa sede per gli studenti modenesi, ovviamente dopo l'emergenza Covid, utilizzare questi spazi per studiare durante le ore serali. Al tempo stesso sarà possibile per i cittadini modenesi approfondire le iniziative culturali, verificando i palinsesti, le programmazioni ed eventualmente anche sviluppare prenotazioni.